Musica Fondicraft è ancora qui, sempre qui Dove è il tuo prossimo svidante? Sbarazzatene e basta Che poi perchè ha già tipo i dadi che gli escono dalla spalla? Che poi perchè lo fa? Non ho mai capito perchè Cloud si è messo coi cattivi No, non è cattivo Cloud, deve fare il contratto No, ma perchè si è messo con qualcosa? Perchè è un contratto, ho bisogno di soldi Per cosa? Per comprare una mombin ship tutta sua Se vuoi diamo un po' di prote-gummi Per comprare una spada gigante Per comprare un po' di prote-gummi No, in realtà quella spada lì non è sua Lì l'hanno regalata Non so, ma è per compensare il fatto che è il pene vicolo Ma st'immagine è totalmente nera con la scritta Sì sì Ah si prosegue Il gran... Oh merda il ciccio bombo TANNER! Sta dormendo Stava dormendo Fai TANNER? No, non ce l'ho No, lo vengono tu vai a fare Gat no mana in here Minchia Fatto E' risultato tu? Yes, ho fatto apposto Lo so no, dicevo sai per perdere uno di due Ma perché la coda di Fenice ti fa rinascere? Tu ma già la coda di Fenice ti fa rinascere? Tu ma già la coda di Fenice li rinascere? Hai presente le Fenice Le Fenice hanno poteri curativi Sì, infatti Però le Fenice non esistono Mentre le Pozioni si No Anche le Pozioni Puoi crearla la Pozione? Sì, ma le Pozioni... Eh sì, e ti curano la vita Cioè tu stai crepando e torni in vita Non puoi tornare in vita Se secondo me le Pozioni sono... Si chiama Morfinari E' pur sempre una Pozione, un intruglio Sì, ma alla fine crepi lo stesso Merda Spada bendata per evitare di tagliarti Giusto Mica vuole rischiare La Bastard Sword Mancato Vesta Claude Si, c'è una potenza Pippo l'attacca e lui non lo caga di striscio Vai Pippo Vai Pippo Vesta In teoria potrai lasciare Pippo a combattere E dove resti in teoria? Senta sia fuori Smetti di parare Se vuole la Patti prima dovevi metterti per guardia ci serve No, se vuole la Patti durante il torneo Siamo anche la Patti prima con... Mi sembra che non puoi mettere sia per guardia che schivata Sì, invece Non funzionano entrambi sullo stesso tasto Si però che se ne frega Se le frega che se ne fregge Se le frega che se ne frega che se ne frega, se ne frega e se ne frega perdo star testi pori che torna dal cielo colpisce pura attuverso il tipo chi chi mancato 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 hai fatto apresa volesse andare avanti tutto il giorno ma i nostri amici e dopo il gioco e finito ma fai nuovo o farlo fuori come adesso sono risorti entrambi insieme attacca forza fateli fuori foto fuori è vostro compito dai non avete fatto un cazzo per tutta la battaglia poverino già morto via! esplode! sconfitta grazie vai caproni e caproni ti fa per noi cloud bella spada ma perchè cazzo ci hai messo sopra le bende non si saprà mai che poi tra l'altro ma scusa eh se tu metti le bende su una spada non si vado a tagliare si eh infatti cioè appena tu colpisci qualcosa le bende si tagliano no in teoria appena le metti si tagliano no vabbè tu potresti anche riuscire a metterle senza farle tagliare ma appena tu colpisci qualcosa il contatto con qualcosa di solido spinge le bende contro la spada e quindi si tagliano eeeh si ce ne andiamo ci ricarichiamo la vita compriamo un paio di pozzo e torniamo no non c'è un negozio merda ma adesso è comparsa il negozio si mi sembra che c'è comunque per un pelo la cerbero la 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 mentre c'è no il mio il moco poi farò tu certo non ho voglia non vuole fare ehi e quanti cazzo ne abbiamo gommi protecomi abbiamo solo un amico pozzo che ci prenderemo ovviamente papirine pippo ma giusto avrei detto di metterli per guardia ma non abbiamo abbastanza più ma come? vedi pippo neanche lui potremmo togliere pipporazzo no no pipporazzo utile pipporazzo utile pipporazzo salvo e andiamo a combattere avete salvato? non importa volevo salvarti non voglio andare a combattere non voglio andare a combattere come starà lo sapremo solo nella prossima puntata ci penso ci penso potremmo andare a ripensare ci penso no voglio vedere se ci ripensi cosa diceva ragazzo ragazzo mi raccomando ricordati cos'è che era? pulisci cos'è quella di karate kid? metti la cera togli la cera metti la cera togli la cera pulisci ahia smettila di tirare i calci sui piedi ma che cazzo dici? fa male ma che cazzo? è l'esorcista scusate ho toccato il microfono è il cane esorcista si correr perchè se ne va secondo me non saranno due attacca basta dai sta compensando i tre le tre le due parole di prima a due vite beh è meno di clayton è più facile infatti sto mondo lo sai probabil non è più facile ma non è più facile ma almeno stelle ne ha due colore ma a tre eh si è ah non ho guardato vediamo quello difficile ho detto io ah è vero ma che ma che i'm the best a oddio finito non si chiama mano ma a fine si mp ah si ma la point no magic power magic power mana point sarà più bello fire io non capisco perchè i nostri amici no è magic point scusa sicuro tu scrivi prima olti oggi oggi io oddio non 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 ti saluti se colpita scopo una testa colpito l'altra testa merda non sta cosa hanno vomitato nel terreno e' ora del terreno sta partorendo oddio che quello è comparso prima finchè non lo ammazziamo no quando durare il coso per terra un po' no no moriamo entrambe no 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 la sua faccia soddisfatta in questo momento è bellissimo tigrati con tigrati con tigrati con tigrati con tigrati secondo te c'è ma c'è lo sottopiato il resto del campagna famos odore di cane bagnato hai mai avuto un cane si sai qual è l'odore di cane bagnato tu si si cane è avuto scusa no allora c'era e sa di cane bagnato sa di cane bagnato assaggiato l'assaggiato 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 ho testato di su perché il cliente può assaggiare il prodotto vai tutti all'attacco tutti fu il vita non abbiamo paura di stocco ok non siamo più freddo l'assaggiato ma come cazzo non ha senso con l'attacco non ha senso con l'attacco non ha senso con l'attacco lo sai io ho salito sulle cosce io ho salito sulle cosce io ho salito guarda italiana stessi tutti i giorni sto notando se non è che ti ha promosso come dalla fine della scuola minchia no merda merda siamo rimasti senza pozza vai pippo guarda che salta vai pippo pippo se lo sbatte guardalo e lì lo guarda la vita cala eh grazie a pippo vai pippo conto su di te perché ah merda abbiamo sprecato il manager e la mp dovrebbero ricaricarsi uno adesso se ci riusciamo abbiamo il è vero merda ha vomitato di nuovo bambino si riempite pianta di vomitare si sta divertendo moltissimo arrotolare come un idiota ecco adesso lo fa di nuovo no ok wanit e run energia su chi dovrei usarla scusa no spiega salta manca st no ho paura ho paura mi ha detto una casa deserta mi ha detto che i da sola casa no ma se da solo no ti ho detto no ho detto no non sono da solo ci sono tutti e con tutti intendo tutti e quattro 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 che c'è un povero una casa un po' sovraffollata and the best and the best and the best 43 formiche dice rolling man io ero 200 quattro rolling man rolling man rosa l'ultimo rosa carai finito tu si ti diverti merda ai morti soccasicero soccanica mi fa male no mi fai più male tu no mi fai più male tu no mi fai più male mi fai più male mi fai più male dai fai fuori dai adesso lo faccio fuori mamma mia ho un po' di difesa per cui due che mamma mia continua a crepare come degli idioti come degli idioti pippo non dovrebbe mai crepare pippo siamo con pippo pippo siamo con pippo pippo siamo con pippo pippo amici pippo ogni volta che verrà pippo ci sarà un pippo amici di pippo yeah nananino nananino sai che abbiamo degli oggetti da mettere? gli oggetti di pippo abbiamo preso una fascia abbiamo preso una fascia un po' di tempo fa che non hai messo uh siamo cuccioli d'eroe pieni diritti a partecipare ai tornei sai che sarà una rottura di magari li faremo alla fine quando avremo finito il gioco magari faremo i tornei tu non hai idea di che tornei ci sono in sto gioco se non mi ero non capito che ci vuole ancora per essere un vero eroe secondo me due cose ci vogliono ancora per diventare un vero eroe vincere comunque in realtà sono altre che dicono vero eroe dicono ero hai capito? cosa? ci vogliono ancora due cose per riuscire a diventare un vero eroe vincere oh adesso ci danno il keyblade di questo che è bellissimo no in realtà è bruttissimo no mi piace quello di che è corto no ok non frega un cazzo ok ciao certo certo sì sì certo come no sì certo come no era pulvita no ah licenza eroe felice eccolo qua la banda dico pippo nanarasi 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 non ce l'ha dato eh questo? ah no non ce l'ha fatto? non ce l'ha dato ma come? ah giusto tu dicevi ci abbiamo questo allora ci abbiamo anello fire annulla 20% di danni aumenta il valo difesa più potenza con oggetti uguali potremmo scambiarlo con la fascia infernale ma è identico oppure potremmo cambiarlo con questo la zanna bianca che aumenta gli ap e l'attacco sangue blu invece potremmo diminuire secondo me è meglio se cambiamo con l'anello fire ci prendiamo questo abbiamo uno in meno di difesa ma abbiamo più attacco sangue blu invece lo teniamo perché ci da più hp vediamo un po' cos'hanno questi ce ne hanno uno per ciascuno direi di mettergli l'anello fire aspetta cosa fa la fascia infernale dai questo a paperino si non è giusto e lui invece gli diamo l'anello fire adesso metti i perguardi adesso possiamo mettere si perchè abbiamo uno in più due in più uno in più mostriamo i perguardi alla gente c'è il video percorso quindi così è qua la te basta così a roto e la infondo c'è cloud ciao cloud perchè ti chiami nuvola fai 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 perchè hai visto quel video alla fine non credo per la parte di ragazza del video fai una fantasy 7 in poche parole no 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 crew 89 fai mi pagavo secondo me per fare questi personaggi modelli hanno fatto il personaggio sempre con gli occhi aperti e poi tipo per fargli sbattere le palpebre hanno aggiunto un pezzettino che compare così quindi normalmente loro sono senza palpebre perchè hai visto queste cose ci stavo pensando è una cattiva cosa lo sai ecco cos'è che è? anche lui sta cercando una persona entrambi stanno cercando tipo no lui sta cercando la sua luce sorra mentre invece coso sta cercando l'oscurità eccola qui la catena regale cioè la catena regale conoscete lo so comitazioni cos'è incrocio sonico non lo so non lo so non lo so non lo so